Sono state le due eccellenti violiniste tedesche a vincere la finale del quinto concorso internazionale Coop Music Awards, nato per ricordare la figura di Antonio Bertolini, storico presidente di Coop Lombardia. Sabato sera, nella cornice del Teatro Dal Verme di Milano, l'esibizione del duo ha stregato la giuria. Il duo Asap è composto da Almos Siegel e Agnes Puschker, due valenti violiniste che, oltre alle attività individuali da soliste, si prodigano a portare la musica a chi non può accedervi, offrendo un repertorio trascritto appositamente. È un vero piacere suonare qui a Milano, in questa stupenda città, ricca di fascino e storia, in questo teatro, questa bellissima sala dove è molto piacevole suonare. Anche per me è bello suonare qui con questo pubblico, veramente una bellissima esperienza. A sfidare il duo Asap si sono esibiti il pianista giapponese Keigo Mukawa, vincitore di molti concorsi e solista in patria attualmente perfezionando a Parigi, e la soprano Jessie Tse, cantante britannica di origini cinesi, con a suo attivo varie produzioni con ruolo anche da protagonista. Un concerto vario, intenso e, me la sento di poter dire, bellissimo, perché sono i tre vincitori delle tre sezioni del concorso. Pianoforte, rappresentato dal talentuosissimo giapponese Keigo Mukawa, musica da camera, rappresentata dal duo di violini, una ragazza tedesca, una ungherese che si sono riunite nel duo Asap, e poi la sezione di canto, rappresentata dal soprano di Taiwan Ma, cittadina britannica, Jessie Tse. Quindi molta varietà di repertorio, suoneranno 20 minuti ciascuno, e tutto il loro talento donato al pubblico in sala. 140 gli iscritti al celebre concorso, divenuto da qualche anno internazionale. Un'opportunità offerta da Copp Lombardia, sempre attenta alla diffusione della cultura. Copp Lombardia ha promosso questo concorso, che è una parte delle nostre attività, quella del promuovere le attività sociali e culturali. Quindi abbiamo creduto dall'inizio, nel ricordare il nostro presidente Antonio Bertolini, promuovere questo concorso musicale, e abbiamo sostenuto in questi anni queste iniziative. Riconoscimento a dei giovani talenti che si sono impegnati, che si impegnano, che stanno ricercando il loro percorso artistico, e noi, come dicevo prima, siamo molto lieti nelle nostre attività sociali e culturali, e questa sera è questa occasione culturale, di premiare questi giovani talenti. Grazie a tutti.